ciao in questo video voglio spiegarvi uno dei modi su come realizzare gli assist da incico ci serviranno gli ami il cordino gli split ring i solid ring il polipetto le sferette forate o perline e il nostro in ciclo la prima cosa a fare è decidere la dimensione degli ami e del polipetto questo lo faremo in base al target che vogliamo mirare ok diciamo la dimensione del pesce il tipo di pesce e anche alla dimensione dell'incico una cosa molto importante è la lunghezza dell'assist se lo facciamo troppo lungo nelle gigate gli ami andranno a incastrarsi con il terminale o anche con l'incico se lo facciamo troppo corto il polipetto lavorerà male durante le giocate in questo caso andrò a realizzare l'assist con un cordino da cento libre dopo aver orientativamente presso la misura dell'assist leggo il primo amo il primo amo una volta legato a andiamo a coprire il nodo con un pezzettino di tubo termostringente che ha il compito di proteggere il nodo e il cordino dopo aver fatto ciò andiamo a realizzare il foro nel polipetto a cosa servono lo split ring e il solid ring? lo split ring ci permette di inserire nell'anelletto dell'incico il nostro assist tramite il solid ring che è un anelletto chiuso nel quale non andiamo a collegare l'assist con un cappietto. per prendere la misura del nodo che andiamo a fare all'assist dobbiamo considerare la distanza fra l'anelletto e l'anelletto. l'incastro del cico la fine dello stesso e le dimensioni dello split ring e del solid ring oltre alla pallina che verrà interposta tra il polipetto e il solid ring. per facilitare l'assist nel foro delle palline e nel polipetto utilizziamo un pezzettino di nylon. una volta fatto il nodo all'assist inseriamo per prima cosa una perlina questa si andrà a bloccare sul nodo. prima di legare l'amo infiliamo nell'estremità dell'assist il pezzettino di tubo termotringente che poi andrà a coprire il nodo del secondo amo legato. musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo modo inseriremo il polipettico. Grazie a tutti. Una volta legato l'assist al solid ring, infine con l'aiuto di una pinza colleghiamo il solid ring allo speed ring. Grazie a tutti. E per finire vi lascio con una bellissima cattura di una giornata bruna fatta ad Incico. Mi raccomando non dimenticare di iscriverti al canale per essere avvisato sull'insegnamento dei prossimi video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.